Da oggi fino a lunedì 10 ottobre alla mostra d'oltremare di Napoli torna Vebo, il salone internazionale dedicato al mondo della bomboniera dell'articolo da regalo e della casa. Tante le novità della quindicesima edizione della fiera che anche quest'anno presenta in esclusiva le nuove collezioni 2017 per il mercato italiano ed estero. Presenti 250 espositori in rappresentanza di oltre 750 marchi che proporranno linee esclusive dal design ricercato indicando anche le nuove tendenze in fatto d'arredo. Quest'anno è ancora più bella, è ricca di espositori che vengono dalla nostra città, dalla Campania, dall'Italia, anche dall'estero. È una mostra bella in un progetto di rilancio della mostra d'oltremare, lo stimola a tutti noi insieme agli organizzatori a fare sempre meglio. In aumento al salone Vebo la partecipazione di aziende del nord Italia, tantissimi quest'anno i prodotti in esposizione e spazio alla solidarietà con la possibilità di scegliere una bomboniera che contribuirà a sostenere diverse associazioni e Ollus.